Ciao a tutti, un bacione enorme dalla vostra anica. Allora, come avete visto dal titolo, video acquisti cartopazzo, perché, adesso vi spiego bene, la vostra anica ha iniziato a decorare l'agenda, però non esageriamo a chiamare l'agenda, ve lo dico già, perché non voglio che pensate che ho una, scusami, filofax, roba del genere, quelle che vedete in giro che sono stra mega belle e quelle che lo fanno sono bravissime. Io ho una specie di, è un'agenda, però non ha i giorni come appunto quelle che decorano giorno per giorno. Io più che altro ho fatto la mia agenda di Youtube e sotto questo video fatemi sapere se vi interesserà che vi faccio vedere la mia postazione, come è cambiata, perché ho aggiunto appunto che le cose cartopazzo, ho cominciato e volete vedere appunto la mia agenda, anche se non è giorno per giorno, ma è tutta una cosa di appunti di Youtube, dei miei video, delle mie cose, perché comunque decoro anche quello. E appunto ho iniziato anche questa mania, sapete, con i miei innumerevoli video di Tiger, che ho cominciato a comprare, anche così, le cartopazzose, anche da l'Indre, che vedrete i video, perché sono già tutti pronti, ho già un casino di video da farvi ragazzi, ma vi farò scelerare queste video qui, si sto per io, però sopportatemi così. E appunto adesso andiamo, vi faccio vedere quello che ho iniziato a prende, che ho preso e che ho già iniziato a usare, che non vi avevo fatto vedere, vi faccio vedere adesso. Comunque, vedete il sacchettino normale, questo è dei cinesi, ho comprato un pochino di roba lì, e anche da Aushan. Allora, aspettate, tiro fuori tutto qua. E così. Allora, prima vi faccio vedere queste meravigliose penne, che ho acquistato da Aushan a 2€. Sono così. Sono tutte colorate, penne a sfera coloratissime. Della Pratal. Mi trovo benissimo, perché adesso ho già usato un altro tipo, che poi vi farò vedere. Non adesso in questo video, ma le vedrete in un altro punto ancora di acquisti. Poi, sempre a 2€, anche queste, sempre a Aushan. Dicono che profumo di frutta queste. Possiamo aprirle, e vediamo. Ci sono, allora, fragola, mela verde, uva, mirtilli, banana, melograno, o melone, no? Cos'è? Anguria, scusate. E arancia, vediamo. Io adesso ne tolgo una, quella la fragola. Provo a vedere come scrive, e vi dico. Mi basta che non la mangi. Wow, che belle che sono. Bello, bello. Adesso sentiamo. Sì, fragola proprio. Passa anche a voi. Adesso te ne passo a te così, te le sbuocite. Ecco, e questo acquisti Aushan, Aushan. Poi adesso andiamo tutti con le cosine che ho comprato in questo periodo dai cinesi, e che, alcune di queste, che vi faccio vedere dopo più dentro qua, perché sono aperte, ho già iniziato a usare appunto sulla mia agenda. Hanno aspettato un'altra cosa di Aushan, è questa, 50 centesimi, la vinavil qua, collettina, va sempre bene. Poi, a 50 centesimi l'uno, adesso tutto cinesi, sono questi post-it, uno fluo giallo e questo qua, color rosino chiaro. Poi, a un euro, queste penne, che sembrano le Bic, ma non sono le Bic, penne a sfira colorate. Però sto impazzendo per tutte queste cose qua. E poi, adesso partiamo, perché ho una serie di molettine di sticker, no, prima vi faccio vedere un altro piccolo blocco che non potevo lasciarglielo lì, un quadernetto, che adesso apriamo insieme, ed è questo, 1,50 euro, con i gufetti. Cioè, sapete, la mia mania, la pazzia per i gufi che ho, mi piacciono. Allora, chi mi segue lo sa, adesso lo scarpiamo. Ah, anche la copertina plastificata, pensavo che era un cartone dentro qua, sembrava cartonata. Vabbè, il quadernetto a righe, con gli anellini, ma guardate che bello, che è troppo bello, non potevo lasciarglielo lì, no, 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 non se ne parla neanche. Allora, poi adesso cominciamo con tutte le cosine, sticker e mollettine. Allora, questo è in, aspetta, ma che si chiama? Il feltro, penso che sia sì. L'ho pagato 1,50 euro e ho anche un'altra agenda che dovrò preparare sulla copertina nera. Forse in quel video di Vitae non l'avete ancora visto, ma non voglio svelarvi niente, che quella agenda arriva da lì. E voglio metterci sopra questo, che è tutta una specie di, appunto, praticello, con la coccinella, e è bellissimo, è tutto adesivo. E mi piaceva, 1,50 euro, mi piaceva troppo, tanto, tanto, tanto. Poi adesso vi faccio vedere, colla glitterata, che questa l'abbiamo già aperta io e Sharon, questa ha 1 euro, argentata. Poi c'è la rossa, d'oro e altri colori. E' quella che si secca? Sì, speriamo, eh. Ma sì, l'abbiamo provato un pochino così, ma era un pasticcino, vabbè, vedremo. Poi ho preso, sempre in questi negozi di cinesi, che poi ho già usato, vedete che sono aperte, queste mollettine, 1,50 euro, erano 6, con il guffetto, poi con la coccinella così tutta intera, e questa, mezza, sempre 1,50 euro a pacchettino, poi a 1 euro, che le ho messe dentro qua, perché si è rotta la scatolina, giustamente, ci sono queste qua, piccoline, non so se si riescono a vedere dentro, comunque, adesive anche queste. E poi, oggi sono andata, ho preso anche questa, varietà di colore di guffetti a mollettina, perché sono troppo belli, a 1,50 euro, mi piacciono troppo, troppo, troppo tanto. E adesso andiamo con gli sticker che ho acquistato, sempre in questo negoziato qua, perché è arrivata in questo periodo, tutta questa robettina qua, sticker, ma a pochissimo, perché adesso vi faccio vedere. A 1 euro questi, che sono questi sticker qua, che adesso vi faccio vedere, ve li apro, perché contiene 6 fogli, sono fatti così, cioè 6 fogli, tutti con questi, vedete, ho già usato, a 1 euro, c'è dentro 6 fogli, è buono, Emoji, brava, ecco, e poi, di questa stessa serie, ci sono anche i cuoricini, e anche qua, ci sono dentro sempre a 1 euro, 6 fogli, e non è male, ragazze, perché, insomma, che bello, cioè, adesso vi faccio vedere, non li tolgo tutti, Buono, 1 euro, 1 euro, bellissimi, questi non li ho ancora usati, di Emoji, sì, Però, sì, però, insomma, con i prezzi che c'è giro oggi, che ti vendono gli sticker anche a un occhio della testa, E infatti, e invece questi, li ho pagati tutti, 69 centesimi l'uno, adesso vi faccio vedere, aspetta, quelli doppio, ve li faccio vedere insieme, Allora, questi, sono così, 69 centesimi a pacchettino, e poi c'è anche la versione sempre con questi colori, però è un po' più grande, il brillantino, tutti adesivi, questi, Ma è un foglio, quello? Eh, sì, questi sono un foglio, però 69 centesimi, No, è buono, è buono, è poco, c'è anche da altri cinesi, li trovi comunque a 1 euro, 1 euro e 50, Eh, sì, infatti, ce ne entro un po', infatti, io di uno di questi ho usato già una fila, C'è un centinaio? Ho attaccato sotto, ma penso di... Centinaio? Non c'è scritto, no, c'è una macchina, no, c'è una strisciolina di questa, l'ho usata a mettere sotto la mia, come si chiama, la mia piccola tela, che vi ho fatto vedere, chi mi segue su Instagram, che ho postato, ho colorato la mia tela, la qua scritta amica, ho attaccato sotto una strisciolina di brillantini, e rimangono attaccati benissimo, ottimi, e poi sempre a 69, anche questi tutti rosa, e non sono male, e poi c'erano queste perle qua dorate, lucide, 69 centesimi anche queste, belle, top, 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 e io credo di, in questo video, di avervi fatto vedere, diciamo bene o male, una piccola parte, perché vi ripeto, ci sono già tanti video pronti, con acquisti vari e tutto, e ne arriveranno sicuramente ancora, adesso vado con i saluti. Ecco, aspettate, che apro il mio quadernetto. Allora, iniziamo. Allora, Sofia GF, ciao, Giulia, ciao, Marta Veronese, la sua mamma, un bacione a tutti e due, che so che mi seguono sempre, Vanessa Soriano, ciao, poi Irina19Roxy, ciao, Arianna Miragliotta, ciao, poi Ingrid Alberti, ciao, Alice2006, ciao, Eleonora, ciao, Alice Capetti, ciao, EvaliKawai05, ciao, MinionsAtlas, ciao, AuriLogalbo, ciao, Scusate se sbaglio, non ciarono tanto, poi Giulie Caru, ciao, Mara Piras, ciao, Emanuela Guasco, ciao, Sara Saretta, ciao, Albina Bala, ciao, Marta Giussani, ciao, se, ripeto, più di una volta il vostro nome, faccia a me, perché può capitare, che vi segno due volte, perché, giustamente, capita, poi Marta Giussani, ciao, l'ho arrivata qua se non sbaglio, poi Liliana, Palagiano, Palagiano, ciao, Angie LovesHorse, ciao, Giulia Frieson, ciao, Nadia Pizzo, ciao, Aurora DiDio, ciao, che bello, poi Asia, Marianna e Danisia, ciao, Marianna Campana002, ciao, Sara Garland, ciao, Martina Minardi05ra, ciao, Elisa Zinco, no, sì, scusa, Elisa Zinco, ciao, poi questo, è un nome un po' complicato, perdonami tesoro, io ti mando già un bacio adesso, perché so già che cara topo dirlo, perciò, un bacione, a, allora, Chaima, Chaima, perché non ha due M, Chaima, spero, Fetai, perdonami tesoro mio, perdonami, un bacio enorme, poi Emanuela Criation04, ciao, Martina, ciao, Panda Unicorna, ciao, e la sua amica, Vale Alessia, Vale Alessia Kawaii, un bacione a tutti voi, al prossimo video, sfolliciate se il video appunto vi è piaciuto, e fatemi sapere se vi piace questa idea, che anche la vostra amica ha iniziato con sto carto pazzo qua, che è tutto, anche mi piace una cifra, e niente, al prossimo, bacioni, ciao, ciao,